Volevo chiarire un qualcosa che va avanti da giorni Vengo magari vista come una persona che ruba i fidanzati Questo è il nostro modo di fronte alle gambe Non avrei mai immaginato una reazione del genere dall'altra parte Praticamente complimenti perché neanche io ero in grado di inventarmi un film del genere Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo video dedicato a un nuovo scontro social Tra due ex corteggiatrici di uomini e donne Federica Spano ha rubato il fidanzato a Irene Capuano Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico Quasi ogni giorno sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e pure su sti scontri social Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ah e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone Capito? Me lo avete chiesto ed eccovi accontentati Oggi parliamo di Irene Capuano contro Federica Spano Un'amicizia finita per un ragazzo, per un fidanzato rubato, chi lo sa Fatto sta comunque che torniamo a parlare di amicizie rovinate per colpa di fidanzati rubati E non so se ve lo ricordate ma qualche settimana fa, forse anche qualche mese fa Vi avevo parlato di uno scontro acceso, molto 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 acceso social Tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma Proprio perché, a detta di Eliana Michelazzo, Selvaggia le aveva rubato il fidanzato Ma se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra nella i di informazioni Oggi comunque poche chiacchiere perché sono tantissime le cose che vi devo raccontare Le protagoniste di questo acceso scontro social sono due ex corteggiatrici di uomini e donne Da una parte abbiamo Irene Capuano, ex di Luigi Mastroianni, il tronista Dall'altra invece abbiamo Federica Spano che non so se ve la ricordate Perché comunque è durato un po' poco il suo percorso a uomini e donne Ma lei era una ex corteggiatrice di Andrea Cerioli Che poi aveva scelto un'altra persona, insomma, vabbè, lei si è andata a casa, tante care cose, ciao Bene, queste due ragazze avevano avuto un rapporto bellissimo sia durante che dopo il programma E infatti fino a qualche tempo fa, qualche settimana fa, anzi forse Fino alla Milano Fashion Week tutto andava bene Erano amiche, hanno fatto addirittura un viaggio insieme per andare a Milano E poi ragazzi, il caos Cala il gelo completo e cala veramente un velo pietoso su tutta questa vicenda Stando alle voci di corridoio, le due avrebbero litigato per un ragazzo Per un fidanzato tra molte virgolette, perché in realtà non è fidanzato né dell'una né dell'altra Perché? Che cosa è successo? Federica Spano avrebbe detto ad Irene, guarda, stai attenta a quel ragazzo Non, insomma, non prenderti più di tanto di questo ragazzo Perché mi hanno raccontato cose brutte su di lui Irene, insomma, un po' così non sapeva che fare E alla fine pare, ma questo appunto non lo sappiamo Che Federica Spano avrebbe intrattenuto una sorta di relazione tra virgolette O comunque avrebbe avuto un incontro con questo ragazzo Tutto parte dalla Milano Fashion Week Che appunto c'è stata, credo, forse la settimana dopo San Valentino Comunque era il 20 febbraio Più o meno il 19, sì, credo dal 19 al 23 febbraio Fatto sta comunque che le due fanno degli eventi insieme Fanno addirittura il viaggio verso Milano insieme Ma ad un certo punto Federica Spano deve praticamente anticipare la sua partenza E torna prima di Irene a Roma Perché? Beh, qualcuno dice che lei era in contatto con questo ragazzo della discordia E lo avrebbe dovuto incontrare proprio in quei giorni Sul web, infatti, già da tempo, già da qualche giorno Si sentivano strane voci Si leggevano dei titoli altisonanti come ad esempio Federica Spano ruba il fidanzato all'amica Irene Capuano Insomma, un caos vero e proprio Che ha generato veramente tantissime bufere E proprio di fronte a tutte queste dicerie dette sui siti di gossip Sulle pagine di gossip di Instagram Una tra le due protagoniste di questa storia Cioè Federica Spano Ha voluto dire la sua È stata in silenzio per un po' di giorni Ma poi ha deciso di chiarire tutta questa vicenda Facendo queste stories Questo lungo sfogo Che adesso guardiamo insieme Buonasera Sono tornata ora Dal supermercato Parrucchiere Vedermi la gira con mio fratello Eccetera eccetera Però volevo un secondo chiarire un qualcosa Che va avanti da giorni E comunque mi arrivano Cioè no segnalazioni Mi arrivano foto Mi arrivano Comunque notizie Delle cose che girano assolutamente non vere Perché sottolineo non vere E quindi mi sembra giusto replicare Mi sembra giusto replicare Dal momento in cui Vengo magari vista come una persona Che è lontanissima Da quello che posso essere io Quindi assolutamente Una persona senza rispetto Assolutamente una persona Che ruba i fidanzati O le frequentazioni Ma non ho mai avuto nessun problema Del genere Mai c'è niente Ora come sapete si interrompe Quindi dovrò fare così ogni quattro storie Dicevo Non ho mai mancato di rispetto Perché per me il rispetto È la prima cosa in assoluto Soprattutto Quando vengono toccati questi argomenti Quindi Rubo il fidanzato O cioè Vi assicuro Non mi va di entrare nei minimi dettagli Perché non sono proprio la tipa E non mi piace Però mi sembrava giusto Più che giusto È arrivato il momento Di dire la mia Dire la mia Perché di certo Non passo come Una m***a Scusate E passatemi il termine Come Quella Che non sono Ripeto Che non sono E non sarò mai Quindi Ecco Quindi Ci tenevo a precisare questo E Per chi mi vuole bene Comunque mi conosce E sa Non ho bisogno neanche di parlare Però Per chi non mi conosce Dicevo Per chi non mi conosce E quindi Per chi Apre la bocca E gli dà fiato E giudica Senza sapere Ecco Vorrei dirgli questo Non Non mi conoscete Non conoscete Le dinamiche Non conoscete Comunque questa storia Che si è creata Cioè Questa fiction Non lo so Perché leggo Certe cose assurde Che sembra A metto un film E Non conoscete Nulla Di tutto questo Quindi vi chiedo Per favore Di rispettarmi Di rispettare Un po' tutto E di non Parlare Senza sapere Ecco Questo Questo è tutto E E quindi niente Volevo ecco Aprire e chiudere la parentesi Non voglio diventare polemica Però È giusto che Dopo Determinate Accuse Risponda A queste stories È ovviamente Arrivata subito Una risposta Da parte Dell'altra Diretta interessata Cioè Direne Che si trovava Con la sua Nipotina E insomma Si spalmava la nutella E la sua reazione È stata Epica Questo è il nostro mood Di fronte alle galle Vai Vai azia Versa di più pure Se non è vino È acqua Va bene lo stesso Brinda Ma quelle Basta 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 Salute Brindiamo Ma Voi lo sentite vero Questo odore di Asfalto fresco Bellissimo Le parole di Rene però Non finiscono qui E infatti Dopo questa storia Che abbiamo visto Un po' ironica Decide di mettere La parola fine Di mettere un punto Fermo A tutta questa situazione Raccontando Per filo e per segno Quello che è successo Partendo dal presupposto Che questa È l'ultima volta In cui parlerò Di questo argomento Perché arrivate a questo punto Poco mi interessa Soprattutto parlare Di persone Che veramente Non meritano Nemmeno una mia parola Ma non mi va Di passare per quella Che inventa O accusa senza motivo Visto che la diretta È interessata Ha detto di non voler Entrare nei dettagli Ecco Ci entro io Proprio perché Sono stanca di leggere Cavolate Su cavolate Inizio dicendo Che nessuno Ha mai affermato Che mi è stato rubato Il fidanzato O la persona Che stessi frequentando Però come capita A tutti voi Credo Tra amiche Spesso si parla Di ragazzi Che ci interessano Ci diamo consigli E cose varie E tra queste chiacchiere C'era un ragazzo Di cui ero interessata E le mie amiche Ne erano a conoscenza Compresa la signorina Che è venuta Con me a Milano Per la Milano Fashion Week Che mi ha sempre consigliato Di non frequentare Quel ragazzo Addirittura mi disse Che non mi augurava mai Un tipo del genere Peccato però Poi decise di anticipare Il ritorno a Roma Da Milano Proprio per vedersi Con questo ragazzo Che fino ad una settimana prima Da amica Mi sconsigliava Ma tutto questo interesse Improvviso Bah Ripeto Nessuno mi ha rubato niente Ma persone che non mi rispettano Non le voglio al mio fianco Nella mia vita Per questo la mia amicizia Con lei è terminata Non ho bisogno di inventare O puntare il dito Contro nessuno Fortunatamente Non vivo di questo Ma arrivati a questo punto Mi sembrava giusto Dire la mia Nella mia vita Voglio in primis Sincerità e rispetto Le persone che non sanno darmelo Sono pregate Di farsi da parte Detto ciò Cospero di aver messo un punto A questa situazione patetica Perché ripeto E sottolineo Non voglio più Tornarci sopra Visto e considerato Che hanno già avuto Troppa importanza E qui ragazzi Boom Torna proprio in quinta Federica Spano Che pubblica Altre stories Un lunghissimo sfogo Sempre tramite Le sue stories Di Instagram Nel quale appunto Fa ulteriormente Chiarezza Sulla vicenda E diciamo che racconta Quella che è la sua verità Allora Buonasera Buonasera a tutti Non Speravo di non ritrovarmi Di nuovo qui Di nuovo a parlare Di questa cosa E di nuovo a giustificarmi Però è giusto Che dica la mia Cioè Nel senso E rispondo A quello che è stato detto A quello che è stato scritto Quindi che io Cioè sto passando Come quella Che ha Escogitato tutto Quindi che ha fatto un Che ha fatto un piano Per sentirmi con un ragazzo Al quale Piaceva Interessava Una mia amica Ok Non è assolutamente così Vi dico come è andata Come è andata la cosa Scusate Allora Partiamo dal presupposto Che vabbè Questo ragazzo È stato conosciuto Cioè L'abbiamo conosciuto insieme Ok perfetto E Poi non Non c'è mai stato nulla Cioè nulla Assolutamente tra Non c'è mai stato nulla Tra loro Mi viene da ridere Perché vi giuro Che sono nervosissima Perché ricevere determinati Messaggi Privati Come Non sei un'amica Fai schifo Bla 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 No Veramente vi dico No Allora Passare Per quella che non sono Mi dispiace No Quindi Sono logorroica Lo so E niente Quindi resta il fatto Che non c'era mai stato nulla Tra di loro Con questo ragazzo Ci siamo rincontrati Tutti insieme Tra amici Ok perfetto Io parto a Milano Quindi andiamo a Milano insieme Io erano due giorni Che volevo andare via da Milano Perché non mi andava più di stare lì Non avevo più voglia E Scusate Niente A tratti parlo Comunque comprese Tutte le persone che mi conoscono Tutte le persone che mi stanno vicino Sapevano Che io volevo tornare a Roma E Già da due giorni Quindi Dopo il primo giorno Io già volevo tornare Perché Comunque Volevo tornare Punto E Detto questo Faccio il biglietto Per tornare Io inizio a parlare Quindi a parlare Quindi a scambiare dei messaggi Con questa persona Quando capisco Che questi messaggi Erano comunque Messaggi Sempre innocui Perché Non è che io Con questo ragazzo Mi ci sento Mi ci sono fidanzata O l'uomo della mia vita Vabbè Decido Di dirglielo Però Cosa ho pensato io Aspetto che lei torna Da Milano Perché sta lì per lavoro Non voglio parlare per telefono Ma voglio affrontare Questa cosa di persona Perché poi succede Quello che è successo E quindi Che si scadena tutto sul web Perché tanto immaginavo Che succedesse una cosa del genere E cosa che io odio Perché siamo grandi Come abbiamo già parlato Privatamente Quindi non so Cosa serve Tutta questa cosa Tramite social Però Sono costretta a rispondere E rispondo anche Tramite social E quindi niente Inizio a A parlare A messaggiare Con questo ragazzo E E dico Vabbè Aspetto che torna Da Milano E ci parlo Gli mando un messaggio La mattina alle nove Mi sembra Proprio perché avevo l'ansia E non riuscivo a tenermi Questa cosa dentro Io mi sono vista Con questo ragazzo Un'ora E E quindi niente Decido di mandargli un messaggio Gli scrivo Guarda devo parlarti Quando tornei a Roma Dobbiamo parlare E niente Poi Voleva saperlo prima Quindi abbiamo iniziato a parlare E a discutere Anzi per messaggi E ho avuto Dall'altra parte Una reazione Che io vi giuro Non mi sarei mai aspettata Perché Perché dall'altra parte Io non ho mai visto Questo grandissimo interesse A parte un dire Oddio quant'è Bel Cioè che bel ragazzo Oddio cose Da adolescenti anche Cioè Sembra brutto dirlo Ma è così Qui dicevo Non avrei mai immaginato Una reazione del genere Dall'altra parte Come se io avessi rubato Il fidanzato della sua vita O come se avessi fatto Un torto Chissà come Cioè che io ragazze Specifico Non mi sento Con questo ragazzo Non sto insieme A questo ragazzo Zero Mi sembrava solo corretto Anche il semplice fatto Di dirgli che ci stavo parlando E E aperta e chiusa parentesi Se io volevo Potevo tenermi questa cosa per me E farmi gli affari miei Ma assolutamente Non è da me Cioè non l'avrei mai fatto Io non ci ho dormito la notte Perché glielo dovevo dire Ma lei non stava qui a Roma E Niente Quindi Insinua Che io ho fatto tutto questo Ho parlato male di lui Ecco anche questa cosa Voglio dire Io non ho parlato male Parlando con lei E lei mi raccontava queste cose Su questo ragazzo Io gli dicevo Guarda che ieri è venuto Vi faccio un nome Giovanni E mi ha detto Che quel ragazzo È andato a letto con tutte Quindi sta cosa mi fa schifo Ma io glielo ho detto Anche a questo ragazzo Cioè la ripeto È andato a letto Con 77 ragazzi Nell'ultima settimana È una cosa Che io gli dico Guarda Stai E questa cosa Glielo ho ripetuta anche a lui I ragazzi La ripeto anche qua La ripeto ovunque E poi che cosa è stato detto Questo niente Io sono tornata prima da Milano Non è assolutamente vero Perché io dovevo stare Anche con i miei fratelli Sabato mattina Non so chi mi segue Guarda le storie Io sabato dalle 9 di mattina Alle 8 di sera Sono stata con i miei fratelli Quindi se permettete Preferisco fare un biglietto Del treno Tornare prima Stare con i miei fratelli Piuttosto che stare in un posto Dove non ho più voglia di stare Dove non ho niente da fare E niente Detto questo Mi dispiace Aver creato Tutta questa polemica Mi dispiace ricevere determinati messaggi Come fai schifo Come sei un'amica di merda Come Perché Cioè è l'ultima Proprio delle mie cose Non perché voglio passare da Sant'Arlina Assolutamente Perché sbagli nella vita Li facciamo tutti Ma questa cosa Non è assolutamente da me Fare un tra giro O fare un giro Allontanare lei da lui Per fare cosa Per prendere Cioè ma di cosa stiamo parlando Cioè ma che 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 giri devo fare Cioè vi giuro Mi Cioè mi nervosisce questa cosa Mi nervosisce E non potete immaginare quanto Perché Finché Vengono dette Cose come Ok sì Federica è una str***a Però cavolo Ti avevo detto che era un bel ragazzo Ti avevo detto che mi piaceva Ci sta tutta Perfetto Ci sta Ma creare questo film No Ragazzi Io sono tornata prima da Milano Io perché faccio quello Per Arrivare Allo Cioè un film Che neanche io ero in grado di Veramente complimenti Perché neanche io ero in grado di inventarmi Un film del genere Penso neanche a Hollywood E Niente Detto questo Comunque spero Vivamente Giuro Spero Si aiuta questa vicenda Perché Per me non ha senso Cioè Lo scopo di tutto questo No Questo battibecco su Instagram A cosa serve Cioè il finale qual è Dopo che abbiamo parlato privatamente Boh Vabbè Spero però Mi abbiate capito Spero comunque Mi abbiate capito Voi che mi seguite E Voi che Mi avete chiesto spiegazioni Per tanti giorni Non ve le ho date Però Cioè secondo me A 25 anni Quasi 26 Non serviva a fare tutto questo No E non serviva a tutto questo Perché Ripeto E ribadisco Puoi dirmi Sei una str***a Federica Comunque Non lo so Qualsiasi cosa ti passa per la testa Cosa Che è già stata fatta Ripeto privatamente Però No Tutto questo No Mi dispiace Ma non lo accetto Quindi Non pretendo che voi Crediate a me O assolutamente Cioè siete liberissimi Di credere a ciò che volete Giustamente Però io devo dire la mia Cioè Non mi faccio mettere Cose In bocca Che non ho detto Oppure non mi faccio Non mi faccio dire cose Che io non ho assolutamente fatto E che tutta questa malizia Da parte mia Ve lo assicuro Non c'era Ma sicuro Prova al 100% Quindi Vi bacio E vi mando Un abbraccio enorme In tutto ciò Si è creato Si è alzato Un vero e proprio Polverone Su Irene Capuano Federica Spano E il ragazzo Della discordia E stando proprio E stando proprio al gossip Lanciato dal sito Very Inutil People Questo ragazzo Ha un nome e cognome Ben precisi E si tratta di Stefan El Sharawi Sì Il calciatore Il sito Very Inutil People Infatti Riporta una segnalazione E scrive Una nostra fonte Ci ha fatto sapere Che le due Si stiano da tempo Contenendo un famosissimo calciatore Il calciatore savonese Stefan El Sharawi L'ex calciatore Della Roma Irene Capuano Si sono conosciuti Mesi fa Galeotto è stato L'aperitivo Con cena a seguito In zona Ponte Milvio Del 13 ottobre scorso Irene Federica El Sharawi E Udite Udite Manuel Galiano Ex Corteggiatore A uomini e donne Ve lo ricordate Che poi lui è uscito Anche con Giulia Cavaglià Ecco Proprio lui E la segnalazione Poi continua Un incontro Organizzato da Federica Spano Che all'epoca Dei fatti Si stava frequentando Con Manuel Galiano Il progetto iniziale Prevedeva infatti Che Irene Ancora fidanzata Con Luigi Facesse semplicemente Da spalla All'amica Durante l'uscita 4 Nonostante tutto L'intesa particolare Che ci fu Tra il Sharawi E Irene Quella sera Fu tale Da causare Un astro litigio Tra lei e il fidanzato Dopo circa una settimana Infatti Luigi e Irene Si sono lasciati Quindi Federica Spano E Manuel Galiano Si stavano frequentando Sarà vero Ma Devo dire di sì A questo punto Perché pare proprio Che stessero insieme Perché Come ha pubblicato Dejanira Marzano Sul suo profilo Questa foto Che vi metto qui C'è un selfie Di Manuel Che scrive Ho scritto Una canzone Che desideravo Scrivere da anni Finalmente Potrò riprendermi Le mie rivincite Piano piano Ne sono certo Vediamo Chi indovina Chi stavo mandando Questa foto E sotto Si legge Infatti Un pochino Federica Spano Quindi Devo dire Che forse è vero Che loro due Si stavano frequentando Ma sarà vero Che Stefano Nel Sharawi E Irene Si stavano anche loro In un certo senso Avvicinando E qui arriva finalmente La smentita da parte Della diretta interessata E cioè Di Irene Che scrive addirittura Ma no A Dejanira Non ho fatto Nessuna cena Io sabato 12 ottobre Scattata la mezzanotte Che ormai era il 13 Eravamo io e Fede A Ponte Milvio Con delle nostre amiche E ad avvallare Tutte queste cose Dette da Irene Ci sono ovviamente Delle prove Cioè Delle stories Che sono state inviate A Dejanira E che le ha pubblicate Sono queste Irene mi ha inviato Le storie di quella serata Ma non era Né con Manuel Né con il calciatore E infatti Come vediamo È una cena Proprio tra amiche E qui ragazzi Si è creata Una vera e propria tragedia Perché ovviamente Mettici di mezzo Luigi Mettici di mezzo Il fatto che i due Si sono lasciati Ma non è qualcuno Ha pensato Che Luigi e Irene Si sono lasciati A causa di questo Avvicinamento Tra El Sharawi E Irene E così Di fronte a tutto Questo show Social A questo scontro social Tra Irene Federica E poi sono venute fuori Altre cose Luigi Mastroianni Ha deciso di pubblicare Una storia Molto divertente Tra virgolette Ha pubblicato Delle risate Dei popcorn Scrivendo Vedi un po' Insomma Diciamo che Luigi Si stava godendo Lo spettacolo Fatto sta comunque Che dopo tutto Questo grandissimo Polverone Che si è alzato Su Instagram Irene ha deciso Irene ha deciso di prenderla Con filosofia E soprattutto Con ironia E infatti Ha dedicato La sua buonanotte A tutte le persone Che la seguono Scrivendo Ah Buonanotte amiche Tra qualche giorno Uscirà anche Il divorzio Con Raul Bova E una cena Con Gabriel Garco E poi ha fatto Anche un post Buongiorno Ironico Scrivendo Sto aspettando Justin Bieber Che mi porta La colazione A letto Ieri siamo andati Al Toy Room Un casino Che non si può spiegare Poi dopo Vi svelo il pranzo Così aiuto a creare Un film migliore Insomma Un vero e proprio caos Un'amicizia finita A causa Di un calciatore Di un ragazzo Chi lo sa Staremo a vedere Se ci saranno Ulteriori sviluppi Ma adesso Fatemi sapere voi Come sempre Qui sotto Con un commento Cosa ne pensate Se state dalla parte Di Irene Quindi credete a lei O se invece Credete che abbia ragione Federica Spano Il video Può freni qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avete fatto E qui sotto Come sempre Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao